Quali sono stati gli elementi di valore, cioè distintivi, della consulenza marketing di Stefano Galli? Posso dire che innanzitutto ci siamo sentiti davvero seguiti al 100%. Era possibile parlarci umanamente, qui direttamente in azienda, con i nostri incontri, ma anche telefonicamente e via mail, a distanza, ci siamo sentiti davvero supportati. E poi, ripeto, è stata un'esperienza a 360 gradi, dato che ha prima voluto vedere quella che effettivamente era la nostra azienda, vedere quelli che potevano essere gli obiettivi perseguibili, e di conseguenza ha saputo fornirci delle soluzioni che potevano essere raggiunte. Non i sogni, ma soluzioni concrete. Confermo quello che dice Valeria. Oltre a tutto quello che ha già espresso Valeria, possiamo aggiungere che è stato molto bravo nel farci capire in semplici passaggi cosa dovevamo fare e cosa modificare, con un ragionamento semplice e lineare alla portata di tutti.